Azzato liquido ripristinato. Avvio sintesi dell'enzima. Sintesi dell'enzima completata. Attenzione, non ingerire. Com'è andata? Bene, ho completato l'enzima. È stato modificato per digerire qualcosa di grosso. Credo stessero provando a uccidere quella cosa nel deposito dei viveri. Speriamo funzioni. Attenzione, non ingerire. Attenzione, non ingerire. Non si arriva al deposito viveri. Leviatano ti divorerebbe. Tu? Tu sei Elisabeth Cross, vero? È questo Leviatano che sta avvelenando l'aria? L'aria, la mia squadra, ha di frutto tutto. Ho progettato uno speciale enzima per ucciderlo. Mi serve solo dell'azoto liquido per completare la sintesi. Ma le persone che ho inviato non sono mai tornate. Ho un po' di quell'enzima. Oh mio Dio! Come? Senti, dobbiamo iniettarlo nel Leviatano. Non si entra al deposito viveri, ma c'è un altro modo. È rischioso. Più rischioso che esaurire l'aria. La squadra è stata modificata. Respirando le tossine del Leviatano si sono connessi a lui. Ma è un legame a doppio senso. Ok. Quindi se trovo la tua squadra e glielo inietto... L'enzima tenera dritto nel cuore del Leviatano. Trova... I rantolatori. Tieni fuori. E quando il Leviatano sarà debole... Spediamo quel bastardo nello spazio. Spediamo il Leviatano. Spediamo il Leviatano. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.